in questo tutorial andiamo a vedere le shoulder press o spinte in alto al macchinario per fare questo gesto hai bisogno di un macchinario in palestra che ti permetta di spingere verso l'alto dei bracci guidati qui te lo facciamo vedere alla multifunzione con la panca e dei bracci guidati che appunto ti permettono di spingere verso l'alto è un gesto guidato quindi molto semplice la necessità di controllo in questo gesto sta solamente nel ricordarti di puntare i gomiti in avanti tenere il petto in fuori e spingere bene le maniglie fino alla massima estensione cercando di non strattonare il peso e di mantenere comunque una tensione continua e controllata nel gesto puoi utilizzare il macchinaio essendo rivolto verso l'esterno come vedi qui ho girato al contrario quindi faccia verso i bracci che spingerai verso l'alto in base alle disponibilità del macchinario che hai in palestra o a casa per questo tutorial del shoulder press è tutto ci sentiamo all'interno dei canali social di dieta flessibile italia tutto ci sentiamo all'interno dei canali social di